Azione! Ciao! Ciao! Sei sparito? Sì, sì, dovevo andare via. Non volevo disturbare. Come te la passi? Bene, bene. È tutto più o meno lo stesso. Ah, quando cambierà la legge, Sparkly e io ci sposeremo subito. Senti, mentre tu... Ti ho seguito con ammirazione. Premi, Gloria. Wow. No, ma sono... Grazie, ma sono tutte... Sono tutte sciocchezze, veramente. Credimi. Non avevo idea di quanto poco contassero tutte queste cose, però... È così. L'ho scoperto. Bene. Ieri era il nostro ultimo giorno di riprese, perciò... Sto partendo. Ma... Prima però... Volevo portarti una cosa. L'ho presa per te da casa mia. Ok, te l'ho messa qui. Ah... Sì. Grazie. Prego. E non... No, 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 non aprirla adesso. No, te la lascio qui così l'apri dopo, con calma. No, mi imbarazzerebbe adesso. Grazie, grazie. Non so cos'è, ma grazie lo stesso. Sì, vedi, ce l'avevo nel mio appartamento e ho pensato... Sarò sicura che ti sarebbe... Però poi... Arrivata al momento non sapevo come fare, perché... Lo so, mi sono comportata molto male. Due volte. Bene. Quindi alla fine è rimasto nel mio albergo. E... Poi sei apparso. Allora, ho pensato... Senti, il fatto è che... Il fatto è che... Qual è il fatto? Qual è? Io oggi devo partire. Ma... Mi stavo chiedendo... Se io non partissi... Se non partissi più, tu... Tu mi lasceresti frequentarti per un po'. O molto. Magari. Per vedere se ti piaccio ancora. Ma ieri quell'attore ti ha chiesto... Chi fossi e tu mi hai liquidato in 448. Ti ho sentita? Tu avevi un microfono e io la cuffia? Ma... Ti aspetta che io racconti la mia vita alla persona meno indiscreta d'Inghilterra? Ok, scusami un attimo. Sì. Scusami tanto, ecco... No, no, non fa niente. Tanto poi c'è sempre una pausa quando la giuria si ritira a decidere il verdetto. Anna, senti... Sì. Io sono un tizio con un decente equilibrio e con poca disinvoltura in amore. Mmm. Ma posso dire di no alla tua gentile richiesta e smetterla qui? Certo. Ok. Bene. Bene. Ok. Te lo lascio qui. Ok? Così poi lo apri. Io adesso vado perché poi devo fare un sacco di cose. Meglio che... Sì, che adesso vada. Ok. È stato bello vederti. La cosa è che con te corre un grosso pericolo. Sembra essere perfetta come situazione a parte quel tuo brutto carattere, ma... Grazie. Il mio cuore è relativamente inesperto, ecco. Ho paura che non si riavrebbe se venissi ancora una volta messo da parte. Cosa che assolutamente mi aspetto che accada. Vedi, ci sono tante, troppe foto di te. Troppi film. Tu mi lasceresti che io... Io rimanei fregato per dirlo tutto. Wow. È un no bello deciso, eh? Io vivo a Notting Hill. Tu a Beverly Hills. Tutto il mondo sa chi sai. Mia madre ha difficoltà a ricordare il mio nome. Bene. Bene. Ottima decisione. Ottima decisione. La faccenda della fama non è una cosa reale. Sai? E non dimenticare comunque che... Che non sono solo questo. Non dimenticare che sono anche una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla. Ok. Te lo lascio qui. Ciao. Ciao.